Mi chiamo Alessia Rinaldi e mi occupo di innovazione digitale alla Camera di Commercio di Torino. Spesso si pensa che siano gli strumenti tecnologici che senza dubbio sono essenziali, ma le persone in azienda e il loro atteggiamento verso questi strumenti sono la chiave. Serve un'apertura alle novità che non è sempre naturale, va allenata. Sì, in qualsiasi momento e a qualsiasi età si può imparare ad allenare il nostro atteggiamento mentale. Documentarsi, innovare i prodotti, aggiornare canali di vendita e agire in modo diverso dal passato sono tutte soluzioni che possono fare la differenza anche e soprattutto nelle piccole e medie imprese. Come punto impresa digitale della Camera di Commercio di Torino stiamo organizzando un webinar sul Mindset Digitale. Investi un'ora del tuo tempo e unisciti al cambiamento.